ciao a tutti sono marco ghezza brand ambassador per l'italia per bim santori oggi parliamo della distilleria jim bim pensate quando nacque la distilleria non erano ancora nati gli stati uniti d'america era il 1779 225 anni di storia che racchiudono in una bottiglia la storia dell'america stessa una distilleria che produce bourbon da sempre è una distilleria che da sempre ha tramandato di generazione in generazione il sour fair e l'arte di produrre bourbon infatti oggi siamo all'ottava generazione di distillatori e sempre si sono mantenuti in famiglia pensate che addirittura i lieviti utilizzati per produrre questi bourbon sono lieviti che hanno oltre 100 anni infatti il buon jim bim aveva questa abitudine portarsi a casa ogni weekend un pezzettino di lievito dalla distilleria e questo ha permesso di conservare il ceppo originale la distilleria ha avuto solo un momento in cui è stata chiusa il momento purtroppo era quello del proibizionismo ma jim bim non si arrese pensate che solo 120 giorni dopo il proibizionismo riapre da zero la distilleria clermont rendendo jim bim il bourbon più venduto e iconico al mondo lo abbiamo qui in quattro referenze la prima referenza che è la più classica di tutte ed è proprio quella più venduta al mondo jim bim kentucky straight bourbon abbiamo poi jim bim signature craft 12 anni di invecchiamento jim bim single barrel che come ci suggerisce la parola proviene da un'unica botte e infine jim bim rye che come vuole il disciplinare prodotto con almeno il 51 per cento di segale che fa di jim bim rye quindi un whisky più speziato più secco ottimo per la miscelazione e ultimo ma non ultimo decretato da jim murray il papà di whisky bible come il suo rye whisky preferito al mondo quindi che dire cheers ciao a tutti sono marco ghezza brand ambassador di bim santori per l'italia oggi andremo ad aprire e degustare insieme una bottiglia di jim bim rye pre proibition edition style pre proibition edition style perché questo è un whisky che nel gusto ricalca le note e i sentori di quei whisky ancestrali prodotti in america prima del prebizionismo è un rye whisky e questo significa che è composto da almeno il 51 per cento di segale e quindi questa segale lo rende più secco più speziato rispetto al suo fratello minore che è jim bim classico il bourbon più venduto d'america al naso infatti questa speziatura si sente note di pepe di cannella questa nota di grano anche che lo rende adorabile per una bevuta liscia ma importantissimo per la buona riuscita di tutti i migliori cocktail a base whisky americano troviamo questa secchezza e questa speziatura che lo rendono ideale per la riuscita di un buon manhattan american style cheers grazie a tutti